Ben trovati da Giovanni Pimpinelli, oggi è il giorno di compagnia portuale Sallo Lenzo Novo, siamo nella quindicesima giornata del campionato di promozione Gione A, una sfida che sembra, non dico semplice, ma direi alla portata della compagnia portuale. Mauro Catracchia! Il decimo gol di stagione per il vantaggio della compagnia portuale. Il cross di Dugelo da palla in mezzo, il corpo di testa, Mauro Catracchia! Lancio lungo, verticalizza subito per Catracchia che la stoppa molto bene, va con il destro! Fuori di poco, grandità di Catracchia anche con l'altro piede. Di Gennaro, il tiro! Pai Catracchia, deviazione! Morbidelli credo sia stata a salvare, era già praticamente gol in mezzo, attenzione difficoltà! E poi il fallo! Il pallone in mezzo, non c'eriva nessuno, Stefano Luasso! E il gol del 3-0! Di primo impatto il gol di Luasso! Luigi Ruggero! La festa della compagnia portuale che vuole conquistare il primo posto nel Gione A! L'ha messa dentro Luigi Ruggero! La compagnia portuale batte il San Lorenzo Nuovo per 4-0 e continua la lotta per la conquista del primo posto nel Gione A! La mia visione è un condo di B�� Grazie a tutti! La mia visione è un condo di scopто nel Gione A! La mia visione è un blocco del geniale a Renegro! Grazie a tutti.